qua mi sono buttato male per andare a pinnacoli ve lo dico dove vado la deve essere successo qualcosa di molto divertente ora voglio farvi vedere una cosa mi si è tolto nuovamente che cazzo di cioè che motivo avrebbe sto gioco scusate donna ragazzi che cazzo 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 mi servirebbe del materiale che cazzo che cazzo che cazzo bella merda bella merda bella merda macchina da destra che cazzo non cazzo parole che cazzo 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 se cazzo che 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 cazzo lancia che cazzo che cazzo 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 che cazzo